Eccoci pronti con una nuova esperienza, un nuovissimo video che ho iniziato, come avete ben visto, nella mia città di origine, cioè Bari. Oggi invece andremo a visitare le particolarità di un'altra nazione, di un altro paese. E guardate il video fino alla fine per capire di che città stiamo parlando. Ora ci troviamo a Bergamo, è la situazione al 9 dicembre di Bergamo, è questa qui. Neve per terra, naso rosso e... insomma, fa freddino. Vi farò vedere a brevissimo dove andrò per assaggiare un piatto tipico che nessuno se l'aspetta, ma in realtà è una delle città che produce più pesce al mondo. Nel frattempo, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Welcome to the best fish channel. Ok ragazzi, sono appena atterrato e in questo momento, dopo qualche oretta di viaggio, ma non importa, sono arrivato nella città dove vi farò vedere che cosa andrò a mangiare questa sera, solo per voi. E ripeto che, pensate, possa essere una città dove si mangia prevalentemente carne perché ha una particolarità che conoscono tutti, conoscete tutti quanti sicuramente. Però, però nessuno, o almeno in pochi sa, che è una grande città dove si produce pesce. A parte che mi sono venuti a prendere con una macchina pazzesca, ragazzi, pazzesca. Check it out, guardate che macchina, wow. Stay tuned. E guardate il video fino alla fine, vi farò vedere dove siamo oggi in questo viaggio. Ragazzi, siamo arrivati nella stanza d'albergo. Qualche piccolo secondo e ci recheremo al ristorante a mangiare un piatto tipico di questa zona. Avete capito dove mi trovo? Vi mostro qualche clip della zona. E scrivetemi nei commenti se siete riusciti ad indovinare dove ci troviamo. Logicamente, quando scrivete nei commenti, scrivete anche il minuto del video in cui avete capito di che città si tratta, in che città mi trovo. Scrivetelo nei commenti qui sotto e mettete un bel like. Voi pensavate ci fosse solo il kebab? No. A Istanbul c'è tantissimo pesce. Ho chiesto una pescatrice e mi ha consigliato di farla fritta. Ora vedremo come la cucino, perché mi ha detto che la fa con l'aglio o qualche altra spezia. Quindi state connessi e guardate che cosa arriverà, che piatto arriverà. E giustamente il titolare è venuto a dirmi, quando la pulisci la pescatrice... Quando la pulisci la pescatrice, logicamente ricavi poco, ha detto non ti preoccupare, so che cosa voglio. Quindi ho preso quella e ho preso qualche altra particolarità della zona e vedremo se è accompagnata la pescatrice. Sarà un ottimo piatto. Ok, questo è l'antipasto turco. Wow. Cioè, ci sarà sicuramente un mio amico pizzaiolo che dirà Ma che cosa stai mangiando? Effettivamente... Sembra una pizza, sembra un impasto pizza E lo andiamo ad assaggiare Non è buono Questo lo accompagniamo a tutto questo buon antipasto Buono, buono ragazzi Ecco, arrivata Thank you La nostra pescatrice Fatta in un modo particolarissimo Sta in una terrina Ed è ricoperta da tanti aromi Ragazzi, la Turchia è una dei paesi produttrici di pesce più importante al mondo C'è la maggiore esportazione di pesce Soprattutto allevato Tra spigole orate e altri pesci Rombo e quant'altro Che sono I migliori importatori di pesce Anche perché è un prodotto eccellente quello che fanno Ragazzi, io Mangio questa Pescatrice Che non so come si chiama in turco Però sicuramente O turco O spagnolo O americano Sarà un'apoteosi Ragazzi Buonissima Buonissima Non ho parola Non ho parola Fantastica Ma la mangerò tutta? Carli GARLIC Ok E' in doli 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 Già Suppongo Siano fritti anche Anche il pomodoro c'è qualche peperone, c'è del del garlic, dell'aglio volete vedere ciò che resta della pescatrice non mi è piaciuta vero? zero proprio ma questo è lo scontrino sembrano un fottio di soldi ma quanti sono? ora faremo la conversione e pagheremo ma sinceramente non riesco a capire ma 695 lire quanti sono? quanti sono? ok conclusione conclusione di questo video fantastico lo scontrino era 700 lire che insomma poi erano pari a 50 euro non so se ho pagato tanto ho pagato poco non lo so però circa 50 euro ho pagato però vi posso garantire che ho mangiato benissimo ve lo posso garantire quel modo molto probabilmente lo riprodurrò perché era fantastico quindi ragazzi da istambul da una delle strade più famose di istambul è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale io cercherò di postare più video come questo cercando di scoprire quali sono le particolarità di pesce del mondo grazie per il supporto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao